E dunque detto così, raccontato così, il disco sembrerebbe incentrarsi soltanto sul problema delle minoranze emarginate. Credo che sia riduttivo considerarlo così. Credo che queste persone singole o questi gruppi di persone, proprio difendendo il loro diritto a rassomigliare a se stessi, in fondo, senza fare del male a nessuno, difendono in fin dei conti la loro libertà. Quindi io credo che Anime Salve sia soprattutto un discorso sulla libertà. Mille anni al mondo, mille ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, Che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, Solo passaggi e passaggi di tempo. Ora infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria. Altra memoria e non basta ancora, cose svanite facce e poi il futuro. Grazie a tutti. 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 di spalle che partì. Ti saluto dai paesi di domani, che sono visioni di anime contadini in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.